amiche amici bianconeri bentrovati ancora eh una volta qui sul mio canale con un nuovo appuntamento relativo ai gran talenti presentato in collaborazione con Gabriele Grizzuti giornalista Match Analyst e fondatore di The Underrated Scout ciao Gabriele bentrovato nuovamente ciao a tutti oggi vi parlo della mia isola qui in Argentina perfetto e quindi andiamo ad immaginare che sei andato a scoprire un talento argentino prego ti lascio la parola dopo Cortinovis vediamo oggi chi ci presenterai sì allora oggi giochiamo in casa diciamo e quindi vi presento Enzo Barrenecea Enzo Barrenecea credo che molti di voi già lo conoscono perché è giocatore della primavera della Juve che quest'anno ha disputato una buonissima stagione fino all'infortunio del legamento crociato se non vado a rato legamento crociato comunque il ginocchio ha avuto un problema da questo punto di vista si è operato a fine maggio e però stava disponendo una grandissima stagione era si era creato un filo diretto tra la primavera e l'Under 23 aveva già esordito quest'anno con con l'Under 23 e come vedete classe 2001 molto alto molto alto abbastanza alto un 86 di piede destro e come vedete negli attributi che vi ho fatto vedere anche l'altra volta spiccano sicuramente le physical challenges quindi duelli fisici con con questo 8 e mezzo e il lavoro difensivo la determinazione che sono sull'otto questo punto che va appunto a considerare il similar player che qui ho considerato come Lucas Leiva se dobbiamo in un certo modo sognare un pochettino più in grande si potrebbe anche fare il nome di Casemiro il giocatore è quel tipo di giocatore un giocatore che solitamente gioca appunto davanti alla difesa quindi come come mediano difensivo che può giocare sia a tre che a due meglio a tre però molto probabilmente come specialità come vedete nel commento generale il take all sia scivolato che il contrasto proprio appunto per la sua determinazione e la sua grande capacità di intercetto ma manca pecca in velocità e agilità proprio appunto come i due giocatori che vi ho citato rispetto però magari ai due giocatori appunto più famosi tra virgolette Enzo batte i calci d'angoli batte i calci di rigore infatti ha fatto 3 su 3 quest'anno non ne ha sbagliato nemmeno uno e quindi da quel punto di vista potrebbe essere una buona risorsa e essendo argentino quindi essendo sudamericano non uruguaggio purtroppo non c'è garaccia a rua in questo caso ma c'è qualcosa di simile perché credo che da quello che si vede almeno della televisione perché solo da lì ho potuto ammirarlo che diventerà anche un leader da un punto di vista proprio della mentalità temperamentale sì 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 da questo punto di vista si carica spesso i compagni anche per quanto riguarda le diverse fasi di gioco sa leggere appunto la fase se è una fase dove bisogna picchiare duro non si tira indietro se c'è una fase dove bisogna stare un pochettino più dietro col bel centro basso chiama raccolta gli attaccanti, gli esterni, di stare compatti, di abbassarsi un pochettino quindi da questo punto di vista qui sicuramente questo tipo di mentalità gli manca bisogna considerare che lui nasce a Villa Maria che è un paesino sempre nella provincia di Cordoba da dove vengono altri giocatori in questo momento al centro di situazioni contrattuali della provincia di Cordoba appunto e lui si è trasferito qualche anno fa poi in Svista che breve inciso dovremmo andare a risolvere probabilmente già la prossima settimana o comunque avviarsi alla risoluzione di quei problemi di cui tu parlavi la prossima settimana prego Gabriele Esattamente quindi lui lascia l'Argentina e si trasferisce in Svizzera da solo al Sion e quindi da questo punto di vista la mentalità qui si vede già dalla scelta che ha fatto un ragazzo comunque che ti trasferisce in Svizzera da solo questa è già personalità senza entrare nel terreno di gioco Ti voglio chiedere siccome sto guardando la scheda e come lo sto facendo io lo staranno facendo tutti coloro i quali sono all'ascolto e in visione in questo momento con noi chi lo farà eventualmente successivamente noto ovviamente delle carenze nella parte bassa della scheda tecnica da te stilata e ti chiedo se dribbling, chance creation, speed e agility di cui tu hai parlato sono comunque delle diciamo situazioni che lui potrà implementare o credi che sia un giocatore diciamo che certe caratteristiche non le ha e non le potrà avere Allora per quanto riguarda la velocità di punta no è un giocatore che è molto strutturato fisicamente e anche riguardo la posizione in campo lì davanti alla difesa come velocità di punta non dico che non gli serva però è una caratteristica poco allenabile come agilità sì invece perché soprattutto di pensiero lui molto spesso partecipa alla manovra di costruzione quindi dell'uscita bassa del pallone dalla difesa e molto spesso magari si perde un pochettino quindi un passaggio, uno scarico che poteva fare diversamente da quel punto di vista quindi sì come agilità sicuramente magari un controllo orientato fatto meglio con più rapidità per cercare l'esterno del campo infatti l'ho scritto not so able to jump open and pressing quindi molto spesso appunto perdendosi in un bicchiere d'acqua quando magari è pressato magari commette un errore con lo stop un passaggio un pochettino troppo corto quindi da quel punto di vista lì dato che comunque tecnicamente è abbastanza valido mi aspetto che ci sia questo upgrade ecco l'unica cosa per la quale io come similar player non ho messo Casemiro è appunto anche l'airplay come vi dice 4 perché comunque di testa diciamo che fa fatica nonostante una struttura esatto è alto però come elevazione non ci siamo molto quindi è qui che poi ho deciso per Lucas Leiva piuttosto che per Casemiro questa è la differenza sostanziale però tecnicamente l'airplay è una cosa che potrebbe anche migliorare in questo modo andando ad occupare magari che ne so il secondo palo per chiudere o il primo palo per spizzare ci sono tantissimi metodi per andare a sfruttare comunque la sua altezza che gli dì un 86 a meno che non batta appunto al calcio d'angolo come vi ho detto in precedenza leggo anche tra le caratteristiche i commenti generali da te indicati tries shooting with the good results not so able to jump the opponent pressing quindi è un giocatore che sostanzialmente a cui piace di andare alla conclusione è un giocatore che la cerca la conclusione ha un buon tiro da fuori ha un buon tiro non ottimo tiro ha un buon tiro e spesso lo cerca dalla distanza proprio perché la Juve quest'anno primavera ha giocato un buon calcio fatto anche di un bel palleggio superata la metà campo e molto spesso appunto succedeva che c'erano delle zone troppo intasate del campo e quindi lui essendo comunque un primo costruttore molto spesso andava a calciare direttamente lui dalla distanza per muovere un pochettino appunto le carte in tavola magari una deviazione una respinta del portiere poco corretta potevano tramutarsi appunto in una situazione interessante per la Juve però sì a calciare calcia non si fa sicuramente pregare ecco sì senti ti volevo chiedere lui quest'anno cioè l'anno concluso ha giocato con la Juventus Under-19 corretto Under-19 che è la primavera che è la primavera che è la primavera e poi esatto con la primavera e poi ha avuto la possibilità di esordire in Under-23 dalla stagione entrante sarà aggregato l'Under-23? allora lui come ti dicevo deve recuperare dall'infortunio il ginocchio si è operato a fine maggio esatto sì a fine maggio quindi io credo che torni verso ottobre metà ottobre inizio novembre e perché appunto adesso alla Juve si stanno allenando alcuni giocatori della primavera come Sule come D'Agraca che comunque D'Agraca già faceva un po' la spola di qua e di là però io sono sicuro sono convinto che se non avesse avuto l'infortunio si sarebbe allenato anche lui con la prima squadra adesso con 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 i primi i primi giocatori della prima squadra appunto credo che l'anno prossimo sarà in pianta stabile invece in Under-23 questo è il mio giudizio che ricordiamolo è quel progetto a cui la Juventus sta dando seguito e su cui la Juventus punta forte e decisa per cercare di allevare i propri campioni in casa senza dover andare a spendere cifre folli nell'acquisto di giocatori già affermati questo è sostanzialmente il secondo anno va detto nel quale si sta dando particolare risalto a questo progetto possiamo dire che probabilmente nei prossimi massimo 1-2 anni quindi un quadriennio completo di progetto di Juventus under-23 potremo cominciare a vedere se Lienzo Barrenecea o chi per loro potranno essere giocatori validi e pronti al grande salto in prima squadra giusto Gabriele? Sì ce ne sono diversi bisogna considerare che soprattutto la primavera quest'anno ha avuto dei buoni risultati per sfortuna diciamo che non si è arrivati in finale ma siamo stati sconfitti dall'Empoli che poi ha vinto il campionato primavera proprio perché comunque secondo me mancavano due piedini fondamentali come Barrenecea e come D'Agraca è una partita che dal mio punto di vista poteva essere vinta ecco però come dicevo la cosa positiva della primavera quest'anno è che ci sono moltissimi giocatori sotto categoria quindi giocatori del 2002 2003 considerando che la primavera quest'anno è una primavera che fa 2001 2002 è un buon punto vuol dire che l'anno prossimo tecnicamente la Juve parte con i favori del pronostico perché ha già un anno di esperienza nei suoi interpreti principali perfetto allora se non ci sono altre indicazioni particolari da andare ad analizzare su Enzo Barrenecea io ti saluterei ma voglio però ringraziarti per esserti collegato dall'altra parte del mondo dalle isole dalle quali tu sei oggi collegato io invece continuo a rimanere nei pressi dell'Allianz Stadium perché la speranza è che questi talenti che andiamo ad analizzare e a presentare a chi eventualmente non li conoscesse possano domani giocare in quello stadio lì alle mie spalle perché è ovviamente l'obiettivo della Juventus con il progetto Andre 23 ma è anche così sarebbe una grande soddisfazione per il tifoso che vede giocatori cresciuti in casa piuttosto che colpi sensazionali con milioni milioni spesi per portarli a Torino io Gabriele ti ringrazio ti do appuntamento al prossima rubrica Gran Talenti con un prossimo giocatore non svegliamo nulla lo scopriranno seguendoci ovviamente seguite sui suoi social Gabriele Gristuti su Twitter ma anche The Underrated Scout giusto? The Underrated Scout esattamente ok sempre su Twitter dove trovate questo tipo di informazioni per arricchire la conoscenza su questi talenti seguite anche il sottoscritto e se non lo ancora avete fatto mettete attiva la campanellina iscrivendovi al canale YouTube e mettendo like a questo video perché sicuramente il lavoro di Gabriele merita la vostra attenzione vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima occasione con Gabriele e sempre forza Juve ciao ragazzi grazie iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao